Mini Temper Temperatrice per cioccolato da banco Nella Mini Temper il cioccolato in gocce o in scaglie deve essere distribuito solo nel vano posteriore della macchina. A seconda del tipo di cioccolato che vorremmo lavorare, è possibile impostare fino a 5 programmi di lavoro. La Mini Temper ha una vasca da 5 litri che contiene fino a 3,5 kg di cioccolato in scaglie. Accendete la macchina. Premere P per accedere al programma desiderato P1, P2, P3, P4. Ripremere P per alcuni secondi. Sul display apparirà S più 1. Agire sui cursori più o meno per ottenere la temperatura di scioglimento desiderata e confermare ripremendo il tasto P. Sul display apparirà PA1, la prima pausa. Sempre con il cursore più o meno, inserire il tempo di pausa per permettere al cioccolato di raggiungere lo scioglimento in maniera omogenea. Confermare la pausa premendo P. Sul display apparirà SP2, la temperatura di raffreddamento. Agendo sui cursori più o meno, otterremo la temperatura desiderata, che confermeremo poi con il tasto P. Sul display apparirà PA2, la seconda pausa. Inseriremo poi il tempo di pausa, che confermeremo premendo il tasto P. Sul display apparirà SP3, la temperatura finale di risalita e temperaggio. Con i nostri cursori gialli, più e meno, imposteremo poi la temperatura che confermeremo premendo il tasto P. Sul display apparirà PA3, la terza pausa. Anche qui, agendo sui cursori più e meno, imposteremo la pausa desiderata, che confermeremo premendo il tasto P. A questo punto, il programma 1 è impostato. È possibile impostare fino a 5 programmi. Schiacciando il tasto verde Start, la macchina inizia il suo lavoro. La macchina è dotata di un pulsante per regolare la rotazione della bacinella. Le temperature da noi utilizzate nel video sono puramente a scopo dimostrativo. La macchina è dotata di un pulsante per regolare la rotazione della bacinella.